Massiccia adesione alla raccolta delle firme promosse dal Comitato Cappuccini-Adrano per mantenere accesa la femmella della speranza per mantenere ad Adrano la storica presenza dei frati Cappuccini. Oltre 2.000 complessivamente le firme già raccolte in pochi giorni nel banchetto davanti alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli e in quella online sulla piattaforma change.org. Adesione spontanea da parte dei cittadini in tanti si sentono in dovere di dare il loro piccolo contributo per non chiudere il convento. Intanto per venerdì alle 20 è stata programmata una fiaccolata, un momento di preghiera davanti alla Chiesa con canti e gioiosa partecipazione ad un sit-in che vuole dire semplicemente fate rimanere i nostri frati Cappuccini con noi. Ad Adrano. Lucia Sciortino, allora parliamo della raccolta delle firme, prosegue in due momenti, quella online e quella in presenza. Sì, in presenza ogni giorno le persone durante la messa, o prima della messa o dopo la messa, vengono a firmare. Questa raccolta delle firme ha meravigliato anche noi perché c'è stata una decisione così massiccia che neanche noi pensavamo a questo numero di firme che avremmo raccolto. E invece le persone, tutta la cittadinanza sta esprimendo il proprio affetto ai frati, proprio per questo sono venuti a firmare e ci chiedono di firmare. Vengono loro e ci chiedono scusate possiamo firmare e noi magari in quel momento non stiamo facendo firmare. Quindi abbiamo proprio la richiesta di queste persone che vogliono proprio manifestare questo affetto, questa loro vicinanza ai frati. Perché questa raccolta firme è questo, ribadiamo il nostro affetto e la nostra vicinanza ai frati, solo questo. Questo è il segno che la gente vuole dare il suo piccolo contributo per fare qualcosa, per mantenere una storica presenza qui ad Adrano. Perché tutti, bene o male, anche io da piccola sono cresciuta qua, ho fatto la mia prima comunione, mi sono sposata, ho battezzato i miei figli, festeggiato il 25esimo di matrimonio. Quindi sempre avvolta da questo spirito francescano e naturalmente questo cerchiamo di manifestare, questo nostro affetto è che questo spirito francescano non venga a mancare. Insomma una presenza che fa parte della identità della nostra comunità, c'è un'altra iniziativa che è stata programmata per venerdì prossimo. Sì, ecco, venerdì prossimo qui nella piazzetta in distante la parrocchia dei Cappuccini sarà organizzata una fiaccolata con canti, preghiere, testimonianze e per manifestare appunto ai nostri cari monaci il nostro affetto, la nostra vicinanza e il nostro amore per ciò che noi abbiamo ricevuto da loro. Perché è anche vero che la loro presenza qui nella nostra parrocchia è stata come un faro, una luce che ci ha illuminato anche nei momenti più bui. Io faccio parte, sono in questa parrocchia da quando ero adolescente e qui sono cresciuta spiritualmente, qui è stata la mia formazione, qui mi sono realizzata anche come persona, ho capito il mio ruolo nella società. E grazie anche a questa presenza, a questa luce, a questo faro che ci ha illuminato per procedere in modo retto e generoso nella società. Perché ciò che abbiamo ricevuto dai frati noi lo abbiamo riversato nella comunità, lo abbiamo riversato nella nostra famiglia, lo abbiamo riversato nei luoghi dove ci aggregavamoci e questo loro lasciare il convento per noi è un momento doloroso. Pur non di meno siamo vicini a loro, accettiamo la decisione del provinciale senza dubbio. Però è anche vero che noi abbiamo una speranza nel cuore, una speranza che se il Signore vuole la realizzerà. Se non vuole noi siamo obbedienti a ciò che Lui vorrà che si realizzerà. Pur non di meno noi diamo appuntamento a tutti coloro che vogliono essere presenti, a tutti coloro che vogliono dare un momento di gioia, un momento di affetto e di sostegno ai nostri frati, qui davanti alla parrocchia, venerdì alle ore 20. Sentiamo uno dei signori che ha firmato la petizione popolare perché ha sentito l'esigenza di aderire a questa iniziativa. Perché, scusa, se ne vanno i monici qua si perde tutto. In sostanza questo è il ritrovo dei ragazzi, degli adulti, di tutti quanti. Questo è il simbolo di Adrano, quindi è un peccato che i monici vanno via. Diceva che da quando era piccolino. Da quando ero piccolino mia moglie stava qua, zona Cappuccini, quindi venivamo sempre qua. È assolutamente un peccato che vanno via, quindi si deve fare qualche cosa per farle rimanere. Nel mio piccolo abbiamo messo questa petizione.